Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Il web era in attesa di un intervento da parte di Selvaggia Lucarelli dopo il dissing tra Fedez e Tony F. Oggi è arrivato con un lungo post di accuse contro Federico Lucia che aveva coinvolto Chiara Biasi. L'uscita di Fedez ha scatenato odio verso la Biasi, vittima collaterale di una rissa da bar. Selvaggia ha colto l'occasione per affondi pesanti. Tutto iniziato con alcune barre di Tony F contro Fedez e Nicky Savage, citando Chiara Ferragni. Fedez ha risposto con un contro-dissing velenoso su YouTube coinvolgendo Giulia Delellis, Andrea Damante e Chiara Biasi. Selvaggia Lucarelli ha criticato Fedez per aver tirato in ballo la Biasi e accusato entrambi di dipendenza da droghe. La firma del fatto si è inserita nel dissing tra Fedez e Tony F, con una storia Instagram senza sconti. Selvaggia ha criticato Fedez per le sue azioni e le cause legali contro di lei. Fedez ha superato il segno con comportamenti infelici, dal presunto pestaggio di Cristiano Jovino ai flirt con Chiara Ferragni. Selvaggia continua a punzecchiarlo. Fedez non ha pace e Selvaggia Lucarelli non lo lascia in pace. La situazione è esplosiva e il dissing tra rapper continua a tenere banco. Resta da vedere come evolverà questa storia che ha coinvolto anche la Biasi in un vorto.